che avete chiesto precedentemente. Allora, avevo chiesto la parola veramente un po' prima. Mi dispiace che la consigliera Schiattarella chiaramente la viva come una questione personale, però voglio un attimo mettere i puntini su lei per capire di che cosa parliamo. Allora, io penso, innanzitutto, come correttamente scrivono i consiglieri che presentano la mozione, la gestione della sosta, questo è il premesso, la gestione della sosta nelle aree del territorio comunale è un elemento cruciale per garantire un utilizzo ordinato e funzionale degli spazi pubblici, per garantire un utilizzo ordinato e funzionale degli spazi pubblici, oltre a costituire una fonte di entrata per l'amministrazione comunale. Quindi correttamente, credo, venga impostata la questione in questo modo. Cioè, principalmente le strisce blu sono uno strumento di regolamentazione del traffico, almeno a Marano, soltanto in via residuale, ne possiamo parlare anche come uno strumento di realizzazione di flussi finanziari. Perché tutto questo? Perché rispetto ad altri comuni, il numero di strisce blu che sono state istituite a Marano sono veramente marginali. Do qualche numero giusto per renderci conto. Allora, a Marano, fino a ieri, diciamo, erano 420 i posti, gli stalli destinati alle strisce blu. Adesso, con l'ampliamento, diventano 520. Quindi aumentano di 100 posti, da 420 a 520. Questo ampliamento di posti riguarda quasi esclusivamente dei posti dove, degli stalli, dove, in quanto strisce bianche, c'era comunque il limite orario, quindi c'era il parcheggio per un'ora. Ok? Quindi, diciamo, il danno non dovrebbe essere esagerato. Abbiamo detto, quindi, arriviamo a 520. Allora, Qualiano, 1100. Mugnano, 1000. Giuliano, 2000. Maddaloni, 1000. Somma Vesuviana, molto più piccola di Marano, 1000. Mariano, 1200. Allora, perché voglio dire, perché dico questa cosa? Perché, ovviamente, laddove c'è 1000, 2000 posti, significa che, ovviamente, quasi tutto il territorio comunale è, come dire, è investito da questa cosa delle strisce blu. Nel caso di Marano non è così. Ma, torno a dire, per noi, non è tanto l'entrata che non corrisponde a quello che diceva, mi pare, il consigliere, il consigliere Savanelli è qualcosa in più. Quindi, stiamo parlando, consigliere, diciamo, se io vengo dal funerale, lei continua a dire che è vivo, continua a dire che è vivo, ma io so che è morto. Allora, quindi, il comune di Marano incassa intorno ai 100.000 euro. Al netto sono, al netto delle spese, eccetera, eccetera, arriviamo a 80.000 euro. Chiaramente è acqua che non disseta rispetto alle condizioni finanziarie del comune di Marano, ma, come dicevo, appunto, è un aspetto, dal mio punto di vista, marginale delle strisce blu. Non è che le strisce blu esistono per fare incasso, le strisce blu esistono per regolamentare la sosta e per regolamentare il traffico. In particolare, le strisce blu esistono per consentire che i negozi, soprattutto sul corso, perché le strisce blu stanno quasi esclusivamente sul corso e sulle strade secondarie del corso, perché i negozi che stanno sul corso abbiano la possibilità di avere dei posti auto dove la gente possa trovare posto per fare spesa, per acquistare. Quindi le strisce blu sono uno strumento, innanzitutto, a vantaggio dei commercianti, non a detrimento o a penalizzare i commercianti. Sono uno strumento che consente, naturalmente, che non ci sia la ricerca continua del posto e quindi aumenti la circolazione veicolare. E soprattutto sul territorio di Marano ci sono alternative, a differenza di quanto avviene su altri territori. Quindi dove magari si sono fatti gli abbonamenti, non lo so. Io dico che l'abbonamento... Eh, però dove non ci sono alternative. L'abbonamento a Marano, francamente, non avrebbe senso dal mio punto di vista. Poi magari ne possiamo discutere in un'altra sede dove io spero, diciamo, che discuteremo in maniera invece più radicale, se servono o non servono le strisce blu, perché fare l'abbonamento... Faccio l'esempio mio, io abito al Corso Europa, io ho la mia macchina, c'è la macchina di mia moglie, c'è la seconda macchina, che è quella di mia moglie, che mia moglie utilizza soltanto la mattina per accompagnare i ragazzi alla metropolitana a Chiaiano, ok? Dopodiché la mia macchina starebbe 24 ore per strada, ok? Se io avessi, chiaramente io la metto via Falcone, zona stadio, se avessi la possibilità di fare un abbonamento, ovviamente io mi farei l'abbonamento e lascerei la macchina 24 ore, diciamo, ad occupare un posto sulle strisce blu. Cioè, rendiamoci conto, parlo di me, che per dire Corso Europa è un corso ad alta densità di popolazione, forse è il posto più densamente popolato di Marano, e quindi evidentemente non esisterebbero più le strisce blu, non esisterebbero più i posti disponibili per chi vuole comprare la camicia, le scarpe, le cose, eccetera, eccetera, o vuole fare la spesa e quindi vuole fermarsi al Corso Europa. Quindi, insisto su questo, le strisce blu sono uno strumento per la regolamentazione del traffico a favore del commercio, non che penalizza i commercianti. Dopodiché, c'è questo, tra i vari malvezzi che abbiamo, i vari malvezzi che abbiamo, dicevo prima, non c'erano tutti i consiglieri presentati, adesso abbiamo il vizio che se dobbiamo accompagnare il bambino a scuola dobbiamo entrare in aula con la macchina, perché se no non siamo contenti, allo stesso modo abbiamo questo malvezzo, i commercianti, il commerciante deve tenere la macchina davanti al negozio, ovviamente, poi dopo dici, ma non ci sono i parcheggi, ma il parcheggio ci sta se tu lo occupi. Poi io mi rendo conto che ci sono i problemi, e quindi per questi problemi dobbiamo trovare delle soluzioni. Io credo che, allora, innanzitutto, volevo finire il ragionamento sul presente, poi magari ragioniamo invece di futuro e di quello che vogliamo fare. Allora, sul presente, noi abbiamo un capitolato che è molto stringente, molto stringente perché naturalmente risponde ad un quadro economico ben preciso, quindi per l'aspetto contabile, poi ci sono aspetti tecnici e operativi che vengono considerati, requisiti normativi, cioè aspetti giurisprudenziali che sono considerati nel capitolato, quindi muovere questo capitolato è una cosa molto delicata, diciamo, una cosa difficile ad affari. Capitolato che è parametrato attualmente ai 520 posti, abbiamo detto i 420 che c'erano, più 100 di ampliamento, quindi è parametrato ai 520 posti. Ovviamente, se si va ad alterare le modalità, va bene, ovviamente si va ad alterare anche il quadro economico. Ora, questo ragionamento io lo voglio fare nel momento in cui siamo alle viste della scadenza di questo appalto e vogliamo decidere se mantenere le strisce blu, se modificare, se mettere le strisce blu per tutta la città e quindi poi immaginare anche gli abbonamenti, però io francamente al momento l'abbonamento non lo vedo come una cosa utile, o meglio, utilissima per tanti cittadini, sarebbe utile pure per me, torno a dire, però non sarebbe utile per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è posti rispetto alle strisce blu, quindi dove l'obiettivo è prevalentemente quello di garantire che ci siano posti disponibili per chi si voglia fermare a fare la spesa. Questo è l'obiettivo principale, non è un obiettivo di carattere finanziario, per quanto, come ho detto, tra gli 80 e i 100 mila euro all'anno è l'introito che ci perviene dalle strisce blu. Detto questo, io capisco che per il commerciante è un problema, il commerciante soprattutto quello che non risiede a Marano, oppure comunque ha bisogno dell'auto per raggiungere il posto di lavoro, così come i dipendenti, insomma chi lavora nell'ambito del commercio. Però nessun comune di quelli che ho elencato prima, come a Marano, ci sono strisce bianche disponibili. E' pur vero che dobbiamo incrementare, dobbiamo migliorare questi posti delle strisce bianche, migliorare le strisce bianche, non le strisce blu, migliorare le strisce bianche, cioè dare la possibilità per esempio di avere un parcheggio illuminato, se parliamo del mercato, di avere delle zone che siano videosorvegliate, se parliamo anche del parcheggio, sia del parcheggio zona stadio, sia del parcheggio zona cimitero, quindi videosorvegliate, quindi queste sono le cose che noi dobbiamo fare, così come io immagino quello che vorrei realizzare dal punto di vista dei parcheggi, è avere la possibilità di avere tre livelli diversi di parcheggio, quindi da un lato le strisce blu, tra l'altro naturalmente le strisce bianche, nelle modalità che dicevo, quindi con una maggiore sicurezza per chi parcheggia nelle strisce bianche, e poi avere degli spazi, come dire, a pagamento, ma a pagamento o con abbonamento, oppure comunque con tariffa, con tariffa, come dire, contingentata, allora questo lo si può fare, noi immaginiamo di realizzare il parcheggio via Ceghevara, dove sta adesso giardino dei ciliegi, quindi una parte, giardino dei ciliegi diventa parco pubblico, un'altra parte diventa parcheggio, che va al servizio anche del Corso Umberto, Corso Umberto che ha un limite dal punto di vista commerciale, che è proprio la mancanza assoluta di parcheggi. Poi il parcheggio, di cui diceva prima il consigliere Samanelli, accanto al Ciaurro, e poi il parcheggio che intendiamo realizzare nella zona del mercato ortofrutticolo, chiaramente perché si possa procedere alla realizzazione del parcheggio nel mercato ortofruttivo, ha prima definita la condizione giuridica dell'area, sia con riferimento ad un contenzioso che c'è rispetto a una persona che ha fatto una pratica del riconoscimento di un usucapione, di un pezzo del mercato, mercato, quindi c'è un contenzioso in atto che va definito, così come va definito preliminarmente, prima dell'utilizzo di quell'area, va definita naturalmente la possibilità di realizzare un mercato ortofrutticolo altrove, sempre detto, quindi nella zona di San Rocco, e quindi potremo utilizzare quell'area per la realizzazione di parcheggi. Quindi questo in termini prospettici. Allo stato attuale, torno a dire, un intervento da questo punto di vista sulle tariffe, sulle modalità di parcheggio, eccetera, quindi l'abbonamento e così via, in questo momento non è possibile per chi andrebbe ad intaccare il quadro economico sulla base del quale è stata assegnata una gara d'appalto. Quindi è stato appaltato il servizio ad un soggetto che all'interno del quadro economico si aspetta un introito di X. Se noi questo lo andiamo ad alterare e quindi l'introito diventa X meno Y, andiamo a contenzioso pure con questo soggetto. Siccome contenziosi, il Comune di Maran ce ne ha tanti e noi il contenzioso lo dobbiamo ridurre, non lo dobbiamo gonfiare e questo è il ruolo che ci spetta anche come Consiglio Comunale oltre che come amministrazione. Ecco, in questo momento questo tipo di impostazione non si può dare. Dopodiché, la mozione è ricca di spunti e anche di suggerimenti che io intendo raccogliere, però dal punto di vista degli abbonamenti io credo che in questo momento non sia possibile.